L'Italia è al decimo posto su 25 per l'esposizione ai rischi online primo in Regno Unito, ultimo in Sudafrica. Sono i risultati del Microsoft Digital Civility Index che ogni anno in occasione dell'Internet Safety Day analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti e degli adulti rispetto all'educazione civica, digitale e alla sicurezza online. Il cyberbullismo continua a fare vittime. Il 22% degli intervistati è stato vittima dei bulli online. La Polizia Postale delle Comunicazioni, in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Sicurezza Informatica, ha incontrato in Umbria 900 ragazzi, 600 a Perugia e 300 a Terni.